In questo video voglio presentarvi un'estensione disponibile sia per Firefox che per Chrome ovviamente anche per tutti gli altri browser basati su Firefox e su Chrome quindi PaleMoon, Waterfox per quanto riguarda Firefox ad esempio Brave, Vivaldi, Edge per quanto riguarda Chrome quindi tutti i browser che permettono di scaricare le estensioni di Chrome e di Firefox possono utilizzare questa estensione inizio col dire che è una mia estensione quindi l'ho sviluppata io quindi un po' di autopromozione ogni tanto la faccio questa estensione vi permette di generare una password direttamente dal vostro browser in realtà sia Chrome che Firefox hanno già questa funzione al loro interno quindi permettono comunque di generare una password casuale il problema è che non è possibile configurare che tipo di password vogliamo ottenere quindi viene generata casualmente senza permetterci di in nessun modo di andarla a personalizzare invece questa estensione che ora vi farò vedere vi permette di personalizzare la password quindi scegliere come volete che sia inoltre permette anche di verificare se la password che state utilizzando è sicura oppure no devo ancora aggiornare la pagina perché al momento ho lasciato la versione 1.0.4 che era quella precedente che ho pubblicato circa una settimana fa non l'ho pubblicizzata allora perché era disponibile solo in inglese mentre con l'aggiornamento di oggi è anche in italiano quindi per pubblicizzarla sul mio sito web personale ho deciso di aspettare di localizzarla in italiano quindi come detto abbiamo un generatore di password che ci permette di generare la password una verifica della password e al momento qui c'è scritto lingue supportate solo in inglese ma tra poco aggiornerò la pagina quindi ci sarà anche l'italiano dal sito web potete cliccare su scarica per chrome o scarica per firefox per andare sulla pagina dello store quindi o di firefox o di chrome e scaricarla apro entrambe le pagine quindi per quanto riguarda chrome andremo sul chrome web store e ci basterà scaricarla in questo caso non posso farlo perché sono da firefox mentre per firefox stessa cosa quindi da qui andiamo a scaricarla e possiamo installarla sul nostro browser una volta scaricata ci comparirà questa chiave gialla arancione quindi un giallo scuro che ci permette di generare la nostra password quindi facciamo clic sulla chiave possiamo andare a configurare alcune impostazioni quindi possiamo scegliere ad esempio se la nostra chiave dovrà avere lettere minuscole lettere maiuscole numeri o simboli quindi ad esempio mantenendo tutto attivo la nostra chiave potrà avere tutti questi elementi inoltre possiamo sceglierne la lunghezza quindi posso impostare una lunghezza casuale quindi non mi importa quale debba essere la lunghezza oppure posso scegliere una lunghezza tra 6 e 16 caratteri mi basterà cliccare su genera per andare a generare una password casuale con le impostazioni scelte ad esempio potrei voler generare una password di 6 caratteri che contiene solo numeri in questo modo vado a generarla stessa cosa con 9 caratteri oppure posso fare una password con lettere minuscole e numeri ad esempio da 6 caratteri o ovviamente una password che contenga tutti gli elementi e posso anche impostare una password casuale quindi non mi importa la lunghezza della password oppure ad esempio una password da 16 caratteri una volta generata la password mi basterà cliccare sul tasto copia per salvarla negli appunti a questo punto posso andarla ad incollare dove preferisco quindi dove voglio utilizzarla questo è il generatore di password abbiamo anche il controllo della password quindi ci basterà andare ad inserire la mia password qui e cliccare su controlla mi dirà se la mia password è sicura oppure no in questo caso la password password è una pessima scelta quindi assolutamente da non utilizzare se invece andassi a provare una password generata mi dirà che è molto sicura perché contiene tutti gli elementi che servono per rendere più sicura possibile una password come detto al momento nel video vedete la versione 1.0.4 ma a breve aggiornerò la pagina quindi ci sarà la descrizione della versione 1.0.5 comunque se andate a scaricare sia su Chrome che su Firefox trovate già la versione 1.0.5 completamente tradotta in italiano se state guardando questo video da YouTube troverete in descrizione il link al mio sito web quindi a claudiamasci.com e da lì troverete il link a EkaSoft e troverete anche il link per scaricare direttamente da Chrome e da Firefox quindi se non volete passare da EkaSoft potrete cliccare direttamente sul link per Chrome e Firefox direttamente da claudiamasci.com quindi non c'è bisogno di fare il passaggio per l'altro mio sito web e per concludere visto che l'estensione l'ho sviluppata io se avete suggerimenti su come migliorarla quindi qualsiasi consiglio se volete vedere una funzione cioè se volete che venga aggiunta qualche funzionalità qualsiasi cosa scrivetemelo tranquillamente nei commenti o su YouTube o sul mio sito web o sull'email di EkaSoft quindi dalla pagina contattami comunque arriverà sempre a me la notifica quindi in qualsiasi modo preferiate contattarmi potete darmi suggerimenti su come migliorare l'estensione in più se vi va se siete iscritti comunque alle pagine di Chrome e di Firefox se vi piace l'estensione aiutatemi comunque a farla conoscere quindi magari datemi una recensione con 5 stelle se vi è piaciuta e con questo è tutto spero che vi piaccia questa estensione e che possa esservi utile vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo A presto